Cosa c'entra il risultato del referendum inglese che ha portato l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea con il prossimo referendum sull'autonomia del Veneto? Molti penseranno che non c'entra assolutamente nulla, invece noi crediamo che ci siano molti punti in comune. La Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'Unione Europea, un po' disgustata dal trattamento che Bruxelles ha riservato a molti stati, in particolare l'atteggiamento della Germania nei confronti dell'Inghilterra, della stessa Francia, dell'Italia, dei paesi che la Germania considera sempre più deboli. La supremazia della Merkel, questo modo di dare ordini, di dare disposizioni e di sperare che tutti assecondino i suoi desiderati. La Gran Bretagna si è stufata di questo atteggiamento e ha detto noi andiamo per conto nostro, perché non vogliamo più subire questi condizionamenti, siamo un popolo libero, vogliamo essere sovrani in casa nostra e questo è stato il risultato, anche se molti dicono ma è determinato dalle piogge abbondanti, di inondazioni che hanno impedito a molti di andare a votare, quindi di fatto questo è stato il risultato e quindi la Gran Bretagna esce ufficialmente dall'Unione Europea con tutte le conseguenze del caso, la sterlina che è crollata, le borse che hanno perso moltissime posizioni, vedremo cosa accadrà poi nei prossimi giorni. Ma di fatto c'entra molto questa situazione con l'autonomia che il Veneto chiede perentoriamente al governo, un governo che non ascolta le regioni, che anzi le vuole limitare, che le vuole indebolire, un centralismo spinto con una riforma costituzionale che dovrebbe veramente azzerare i poteri degli enti locali che sono considerati troppo prepotenti e troppo costosi, è esattamente il contrario, è lo Stato che vuole impossessarsi di tutte le leve del potere e comandare, è questa la riforma costituzionale alle viste prospettata da Renzi e dalla Boschi. Poi Renzi peraltro rischia di fare la fine di Cameron perché ha personalizzato questo referendum sulla Costituzione e quindi rischia di dover veramente andare a casa nel caso vincessero i no. Ma l'autonomia batte proprio con il referendum inglese perché è la stessa risposta a questo modo di fare, alla prepotenza, alla protervia, all'arroganza dell'oligarchia europea comandata dalla Merkel e in qualche parte anche dalla Francia. L'Inghilterra si è sentita suddita dell'Europa e il Veneto si sente suddito di uno Stato che lo calpesta, che lo spreme come un limone, che non ne ha mai abbastanza di imporre le proprie regole e le proprie richieste, a danno delle imprese, a danno delle banche come si è visto con tutte le colpe che possono essere attribuite ai banchieri veneti, però insomma una buona parte l'ha fatta la riforma delle popolari trasformate in SPA e comandata dall'Europa a cui ovviamente Renzi si è piegato. Allora il Veneto che chiede l'autonomia è un Veneto che alza la testa, orgogliosamente che dice basta con questo andazzo, noi vogliamo avere il nostro potere, noi vogliamo avere i nostri soldi, quelli che noi diamo a Roma, nelle casse di Roma, li vogliamo trattenere sul territorio e il referendum sull'autonomia di ottobre è a questo punto, a legittimare la propria libertà e la propria indipendenza, non quella assoluta, è il primo passo verso un'eventuale indipendenza. L'indipendenza della Scozia rispetto alla Gran Bretagna è una cosa, l'indipendenza della Gran Bretagna rispetto all'Europa è un'altra, quella del Veneto rispetto a Roma è un'altra ancora, vuole questa regione avere quel margine di manovra che si deve dare assolutamente, se non altro per una questione di dignità a chiunque voglia essere libero di governare in casa propria, quindi al di là dei problemi, autodeterminazione dei popoli etc., sarà importante che come è successo in Inghilterra, i Veneti in ottobre votino per l'autonomia, che ci sia un grande plebiscito, che tutti vadano a votare, perché altrimenti ci sono i soliti prepotenti, i soliti signori della politica che vogliono mettere i piedi in testa agli altri e questo il Veneto non lo può e non lo deve accettare.